La donna narcisista in amore. Normalmente si cerca di, diciamo, si tende ad associare la personalità narcisistica agli uomini, più che altro, diciamo, perché molte donne parlano di uomini narcisisti, che le trattano male, che sono incrostanti, fanno love bombing e, diciamo, apparentemente sembra che siano più uomini narcisisti, ma in realtà ci sono anche molte donne narcisiste. Chi è la donna narcisista? Come si comporta la donna narcisista in amore? Di solito sono donne che utilizzano la sessualità in modo predatorio, fisicamente, diciamo, cercano di essere attraenti, soprattutto col culto del fisico, normalmente fanno, diciamo, sport tipo bodybuilding anche marcato, hanno una, diciamo, femminità anche molto mascolina, normalmente, per essere più attraenti, per piacere sessualmente. Non concepisco un'altra seduzione che quella della sessualità. Durante i primi tempi della relazione mostrano di essere sensibili, sono, diciamo, anche, hanno sedanci di generosità. Appaiono estremamente coinvolgenti grazie al fatto che mettono in atto un sesso trasgressivo, esaltano le qualità dell'amato, del partner, anche sessualmente, che si sente al centro dell'attenzione. Viene riconosciuto, si sente riconosciuto. I problemi nascono poi dopo poco tempo. Bruscamente, senza preavviso, il sogno va in frantumi. Emergono un sacco di antagonisti, si fanno un sacco di altri uomini. La demolizione totale, dall'esaltazione senza riserve, dei primi tempi, si passa alla svalutazione feroce. E quindi interrompono il rapporto in una rivendicazione aggressiva finalizzata a far sentire l'altra persona inadeguata e dunque indipendente. Se seguirà i dettami della donna, finalizzata a ottenere tutto quello che vuole economicamente e in altri modi, per paura di non perderla, potrà continuare a godere del privilegio di vederla ogni tanto, privilegio per lei, ma sempre sotto ricatto affettivo, dell'abbandono, in un regime soffocante e dittatoriale. Il narcisismo, diciamo, si rivela in tutta la sua potenza. Di solito, diciamo, l'appiattimento alle esigenze della donna determina un'accettazione del rapporto. Un uomo sufficientemente forte e sicuro di sé, dopo un po' la manda a fanculo. Di contrario, ci sono persone che restano invischiate nelle maglie di questo rapporto e sono disposti a subire di tutto per non perdere la donna. Quindi questi vivranno una vita di merda e dovranno stare attenti a acquisire la forza dell'autostima necessaria per liberarsene e mandarle a fanculo. Seguimi su YouTube.